Eccola, eccola, eccola! Ah, ma non è fatti bravo! Magari! Ma non è fatti bravo, scusate, pensavo che era fatti bravo. No, 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 va bene, niente. E non, sei dietro? Dobbiamo lasciare uno spazio, eh? Dove ci vediamo? Eh, si chiama Bacheca. Va bene. Ciao, ciao, ciao. Ciao, ciao. Posso fare una foto? Sì, sì, va bene, va bene. Scusaremo il cappello perché piove. Ecco le ragazze, eccole, eccole. No, no, era riferita a loro. Ah, no, no, stessi chiediamo. Noi siamo nonne e nonne bis, eh? Ok. Ma sono le vostre nonne? No. Ah, scusa, no, non sono le vostre nonne. No, 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 diversamente giovani noi. Ok, bene, bene. Undici nipoti in due. Undici nipoti e io sono bis nonna. Ma quanti anni, ah, si può dire? Sì, 68. Cavolo, ho già un travolta 69, oh. E vuoi mettere? E vuoi me, oh. Ma il ballo del cuacuale possiamo fare anche noi? Noi possiamo fare il ballo del cuacuale. Vai, fatelo, fatelo. Ma che paperissima qua, oh. Oh, va bene, va bene, siamo tutti. Grazie, grazie, grazie. Domani sono sempre qua. No, bacheca, domani. Sì, sono sempre qua. Ma scusami, dobbiamo cercare bacheca? Eh, un attimo che arrivo anche da voi, un attimo. Arrivo subito. Ma che succede qua? Mamma mia, aiuto, chat. No, vabbè. Eh, che sei, ti foggia? Giulia. No, no, della Basilicata, però vivo a Rimini. Ah, ok. Sì, vivo a Rimini. Vivo a Rimini, vivo a Rimini. Ciao, nipotini, nonna vi vuole bene. Per oggi nonna non poteva guardarvi. Un bacio, amore. Grazie, visto come sono gentili a Sanremo. Ma siete di Sanremo? No, Torino. Ah, ecco perché siete così. Noi siamo della Toscana, eh. Ok, Maremma Bucaiola. I miei genitori sono della Basilicata. Di dove? Muro Lucano. Rio Nero. Noi quest'anno andiamo a Matera, eh. Ah, ok, bellissimo. Rio Nero è il Sostata, eh. Ah, ok, bene. Dimmi solo dove provarvi. Scusate, mi riparate perché piove di più. Vieni. Dimmi dove ti troviamo. Scusate, sono fra tante ragazze qui. Non mi è andata così male, eh. No, no. Non mi è andata così male. Con il figlio ti adottiamo. Con le nonne, poveri. No, con le nonne, ti adottiamo. Ragazzi di dubbia. Ragazzi, voi non potete mai... No, vabbè. Io per mettermi sotto l'ombrello in questo momento vuol dire che sta delubiando, eh. Con le nonne. No, ma mi sto bagnando con tutto. Mi sto bagnando tutto, aiuto. Anche noi, eh. Da stamattina hai voglia che ci siamo bagnati. Un messaggio per voi. Eh? Vocale di Viledavo. Bellissime, signore, siete singole o sposate? Single. In zona Monte Carlo, libera per stasera. Single. Vede, va. Sposata a 49 anni. Sposata due volte. Prima è andata male, dopo trent'anni. Cambiato marito. E ora il secondo? Va meglio. L'amore più giovane, va molto meglio. Meglio. Puoi dare un bacio a Viledavo? Sì. Ciao. Grazie, Viledavo. Un bacio dalla signora per te. Vocale di Ciccio Bosco. Nonne, nonne, nonne. State attenti che il qui presente Patrizio becca tutto dai diciotto anni in su. Tutto e mi raccomando, state in guardia. Io sono single, state in guardia, eh. State in guardia. Non ti preoccupare, anche se sei sposata va bene allo stesso. Eh, ma è mica, oh, eh. Vedi allora. Eh, allora, oh. Prego, prego. Bacheca lo trovo sinistra. No, no, si chiama Twitch, non è Bacheca. Si chiama? Twitch. Twitch. Sì, è una piattaforma come YouTube. Ah, ok. Sì, sì, non è Bacheca, non è Bacheca. Quella è per... Twitch. Sì, sì, sì. Allora lo so. Domani. Scarichiamo subito Twitch. La luce? Non ho capito. Vocale di Patruccio 22. Domani. Foggia, Foggia, Iole. Ciao, Foggia. Come si sta a Foggia? Foggia, Foggia, Foggia. No, vabbè, ma tutto può succedere. Ragazzi, non sto capendo niente. Grazie, grazie, Zatruccio. Salutiamo Foggia. Salutiamo Foggia. Uè, la Foggia. Eee. Uè, la Foggia. Fa l'orecchietto, me. Con le cime di rap. Con le cime di rap, no. E' luce. Ragazzi, scusate, sta succedendo di tutto. Siamo tutti compatti. Ci sono ancora le minorenni dietro. Ecco, sono qua le minorenni. Sì, sì, sì. Brava, fatti sentire. Fatti sentire. Adesso si vede la generazione con le parovine dolci. Stiamo aspettando. Venga il netto. Quelli sono già in albergo. Ma chi è? Un rapper? Un trapper, oh. Ma chi è un trapper, chatto? Ma chi è un trapper, oh. Un giorno vi prometto che saliremo sul palco di Sanremo. Ok. Oggi è il 2023. 2024. 2024. 2024. Eh, non avete capito la gag, dai. Vi prometto che un giorno saliremo sul palco di Sanremo al posto di John Travolta. Ciao. Ciao, vabbè. Attenzione, i fiori di Sanremo. Eccolo, eccolo. Eccolo, eccolo. Ah, ok. I fiori. Sono arrivati i fiori, chatto. Ma che è un trapper, oh. Sì, sembra un trapper, eh. Oh, intanto qua sto facendo io il content qua a Sanremo. Cioè, io lo sto portando a... Ciao. 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 Cioè, lo sto facendo io il content qua a Sanremo. Ciao. Oh, signorina, io vado a fare un giro di... Un perimetro. Ma aspettiamo qui. Oggi c'è un caffè caldo, grazie. Vado a fare il perimetro. Ci vediamo forse dopo. Vado a fare il perimetro. Ciao. Ciao. Ciao, ragazze. Ciao, ciao, Minoranni. Ciao, ciao. Ciao. Eccole, eccole. Eccole. Ciao. Ciao. Ragazzi, siamo oltre 70.000 in live. Grazie. Porca miseria. Grazie. Oh. Grazie. Grazie.